bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi parliamo della nuova patch che è arrivata in fortnite qualche ora fa ragazzi con la nuova patch ovviamente sono arrivate anche le sfide settimanali della settimana numero 9 ragazzi tra le sfide settimanali ragazzi c'è quella di cercare la stella nella mappa che si trova a putrido pantano ragazzi io non sto andare a farvi vedere la mappa la vedrete in un pop up qui adesso eccola lì la mappa ragazzi dove si trova la stella allora innanzitutto il triangolo di alberi ragazzi lo dovremmo vedere se non ricordo male qua ecco questo è il triangolo di alberi ragazzi che vi ho appena marcato con il marker noi dobbiamo proseguire e la casa che ci interessa ragazzi è proprio questa tra corso commercio le prigioni e lande letali direi di buttarci subito ragazzi e andare verso il marker per cercare di trovare anche noi finalmente la stellina e prendere quindi 10 punti del pass battaglia quindi ragazzi andiamo abbiamo già il marker là davanti ragazzi lo vediamo benissimo come vedete passiamo la montagna la casa è questa ragazzi vediamo se siamo fortunati a trovarlo attenzione così attenzione così dunque dunque la casa esatto ci stanno andando un sacco di persone ragazzi direi che è indubbiamente questa vediamo se lo troviamo anche noi e attenzione non ammazzatemi non ammazzatemi eccola ragazzi la stellina eccola perfetto andiamo a trovarla ragazzi e speriamo che nessuno ci ammazzi mentre scende un sacco di gente che deve fare il weekly pass noi direi che ce ne andiamo molto molto velocemente ragazzi e allora con questo schitarrato finale io vi ringrazio ragazzi di avere guardato questo video vi ricordo di mettere un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao 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 ciao